La scorsa volta non ci abbiamo creduto abbastanza, ci siamo resi troppo presto per la via della salvezza Ma questa volta non commetteremo più lo stesso errore È il momento Occhio a non cascare che perdiamo tutto Lo so Ma aspetta È questa, è questa, è questa, la vedi? E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki Sì, io sono Stef E questo è Jackman Raft E siamo tornati nella nostra super mega hyper zattera E questa volta raggiungeremo la fine del mondo con la via della salvezza ovviamente Esattamente, come avevamo già detto negli scorsi episodi Abbiamo scoperto che davvero si poteva arrivare alla fine del mondo Semplicemente ci siamo resi troppo presto Ci siamo Ti sei Siamo una squadra No Siamo una squadra assoluta Io adesso cavalco Rosetta e me ne vado, guarda E ti dimostro che non siamo una squadra Non si può fare, ti devi arrendere con questa cosa Non la metteranno mai nel gioco Magari un prossimo aggiornamento io la potrò trovare Non la metteranno mai, arrenditi Come dei fini nei film, no Neanche quello esiste, ok? Solo nei film Esiste Nella realtà lo fanno solo nelle piscine Al mare aperto non esiste come cosa, ok? Questo lo dici tu Non ci sei mai stato Non lo puoi sapere comunque Va bene, va bene Iniziamo Dicevo che questa volta Per riuscirci senza impazzire Ho preparato giusto qualche cesto Con i materiali Come noti Si è aggiunta una nuova riga Sì, sì L'ho già vista L'ho già vista L'ho già notata E immaginavo fosse piena di legno Giustamente Sì, beh sì Di che cosa doveva essere piena? Cocco? Cocco bello? Se vuoi raggiungere la fine del mondo Con i cocchi Magari ci puoi provare Io ci vorrei provare Però lo lasciamo per un altro episodio Questo episodio facciamo Prima parte Cerchiamo di avere la fine del mondo Sperando che non ci vogliono 45 minuti solo per quello Dopodiché Ho in mente Un'altra piccola costruzione da fare Tutti i consolini Ci hanno chiesto di fare una torre altissima Ok, ci hanno chiesto proprio Tutti, tutti, tutti Io voglio aggiungere A questa richiesta dei consolini Una cosa prima Quindi la torre altissima La facciamo nel prossimo episodio In questo episodio però Prepariamo diciamo La piattaforma Dove noi faremo questa torre altissima Sì, sono d'accordo Anche perché qua Secondo me Cioè ci rovina tutta la nostra Esatto Esatto Quindi ho un'idea Che facciamo nella seconda parte del video Per ora Cerchiamo di arrivare alla fine del mondo Allora ci prendiamo Secondo me Facciamo così tanto di legna E poi tutto il resto In fogliette Belle, belle, belle Sei pronta? Vai Iniziamo Dritti per dritti? Dritti sì Non finiremo mai Non finiremo mai Anche perché l'altra volta Ne abbiamo messo tipo Se non 300 Almeno 250 Secondo me sì Allora Ne abbiamo messo due volte le 50 Quindi come minimo 100 Due volte 30 Quindi come minimo 60 Quindi sono Quanto meno 160 Più la piattaforma iniziale Sono 200 Eh esatto E non eravamo neanche vicini A vedere la fine Quindi secondo me ci vorrà davvero Davvero tanto Sì 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 Dobbiamo tenerci compagnia Quindi ci serve una storia In questo viaggio lunghissimo In questo viaggio lunghissimo Ci racconti una storia Io vorrei la storia di Rosetta Perché Mi hai parlato poco Capito? Vorrei sapere La storia di Rosetta è riservata Capito? E vabbè E tu non sei nulla su di lei? No Cioè non siete amiche? No Io non sono amica degli squali Ma se li vuoi cavalcare Pensavo fossi almeno Questo non implica l'essere amici Capito? Ah ok Implica utilizzare lo squalo Per un fine utile È un rapporto d'amore e odio questo? E beh sì Perché non si sta mai Se hanno fame Mentre tu li cavalchi Ti possono mangiare una gamba Capito? Si gira Beh dai Si stacca la gamba Diciamo che è un po' come pagare la benzina No? Aspetta Aspetta Però siamo in due su questa zattora Quindi magari la benzina Gliela posso dare con te Non ce l'ha bisogno Non ce l'ha bisogno Di ricordare sempre Quanto poco mi vuoi bene Ok? Non c'è proprio bisogno Lasciami qua a costruire Guarda la palma da lontano Pasqualmo Secondo me si vedrà fino alla fine del mondo Che dici? Non lo so Ci spero tantissimo Ci spero anch'io Perché sarebbe epico Sarebbe totalmente epico Però non ne ho idea Allora sto già iniziando a rischiare Anche di morire di sete di fame Da quanto sta già diventando lunga E inizio già a pensare Tra me e me Senza dirlo Che i materiali che ho raccolto Non basteranno Però voglio restare positivo Per adesso Perché di tagliare legna Non ne ho molta voglia Vabbè Abbiamo una farm di palme Quindi non è che ti ci vuole Così tanto tempo Però Neanche poco Però Esatto L'altra cosa che in effetti I consolini comunque ci hanno consigliato Ci hanno chiesto tutti di fare E di provare a mettere Dei muri o delle scale Alla piramide Per rendere più il senso Per dargli più la forma Direi che ci possiamo essere Allora ne possiamo fare Quasi 70 Poco meno di 70 Allora guardate un pochettino Quanto È già lunga La palma La palma già non si vede più Mi dispiace Non ha retto la distanza Ok È troppo È troppo È troppo Ma siamo davvero troppo 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 lontani Parte l'ultima maratona Queste 70 potrebbe abbassare Io il confine lo vedo lì in fondo Sì E allora io avevo ragione Avevi ragione Con i cibi di vederlo Quando vedevo l'orizzonte Un po' più scuro Avevo ragione Che comunque eravamo vicini Alla fine Secondo me guarda Ci siamo andati davvero vicinissima Può essere Magari Una cinquantina Ed eravamo arrivati Esatto 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 Invece ci siamo arresi Ti giuro che a me sembra Che ogni volta che ti muovi Va più lontano E infatti L'altra volta L'altra volta io Alla fine mi avevo deciso Di lasciar perdere Perché comunque Anch'io avevo questa sensazione Che più capito Ti avvicinassi E più si allontanassi E quindi ho detto Magari l'hanno fatta davvero infinita Non lo so Non lo so Ma quanto ci vuole? Quanto ci vuole? Non lo so Solo che Facciamo un'altra maratona da 70 E spero che ce la facciamo Perché questi viaggi Iniziano a essere pericolosi Anche avendo il cocco Eh sì assolutamente Quindi sta diventando davvero pericoloso Fare avanti e indietro Io penso di vederla Secondo me la sto vedendo Sì 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 Ce l'abbiamo fatta Aspetta Dimmi che bastano Dimmi che bastano Sì che bastano La vedi? La vedete? No non ci credo La scorsa volta eravamo vicinissimi Secondo me no eh Secondo me ce ne mancavano un centinaio La scorsa volta No secondo me eravamo vicini Perché vedevamo L'orizzonte esattamente come prima di questa Aspetta Aspetta Vai Aspetta È il momento Occhio a non cascare che perdiamo tutto Lo so Ma aspetta È questa È questa È questa La vedi? Uno Non ce li diamo Per uno Per tipo due Vedi Cioè siamo lì Dai È la fine Vedete è la fine Regalateci della legna E prego Cioè per uno Non devo rifare avanti e indietro Verò? Per uno Per due Dai Uno e due No ma credo Perché poi mi sa che Io ho visto più o meno un video Mi sa che puoi costruire anche sul nulla Capite? Quindi puoi stare tranquillamente sopra Alla fine del mondo Dai ci dobbiamo provare Con la paura di cadere Però ce la puoi fare Cioè almeno altre cinque Vabbè Io inizio Oh siamo sfortunati con sta cosa della fine del mondo Io inizio a camminare Quando torno a casa Ti mando un messaggio Va bene Dove sei? Ciao Come potete vedere Sto già camminando da venti secondi E niente si vede Minimamente Pasqualmo No siamo lontani comunque Cioè La mappa è davvero grande No sì 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 Se vuoi fare qualche costruzione Puoi stare tranquilla E tutto lo spazio che vuoi Sì che davvero è lo spazio Più grande che tu puoi immaginare Bellissimo Mi stavo per addormentare Ma siamo arrivati Eccoci Eccoci Finalmente possiamo andare Sospesi nell'aria Ti giuro che se non possiamo E ricordo male Mi butto No cioè ti butto io Ti spingo di sotto Perché davvero Per aver fatto tutta questa strada Altri cinque minuti Come minimo dobbiamo Sì 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 Oh mamma mia Ma fa troppo paura però Lo so È peggio di stare in mezzo all'oceano È peggio Allora Dobbiamo andare fino in fondo Oh mamma mia che fastidio Almeno questi venti li utilizziamo Ok Ok Ma così tanto No che se rischi di cadere Perdiamo tutto Lo so Allora fai attenzione Secondo cosa sto facendo in questo momento Devi stare concentratissima Lo so no Perché se perdiamo tutto Perdiamo anche Pasqual E tutto Fa comunque l'effetto dell'acqua Sì Guardate la fine della mappa Questa è l'acqua Guardate Che fastidio Fammi tornare Ok Ok Questa prima avventura di oggi è finita Ve lo dovevamo Perché il primo tentativo L'abbiamo fallito per davvero poco Sì Sì Dovevamo per forza perdere Un'ora per rifarlo Sì esattamente un'ora Per rifare tutto questo Però dai ne vale la pena Adesso voglio divertire i consolini Ninna na na Ninna Oh Potresti risparmiarla Sembrava alla fiera dell'est Hai fatto un po' di miscuglie di canzoni Ok Un miscuglie di canzoni Di quando eravamo bimbi Siamo tornati a casa E adesso Dobbiamo creare la pietaforma Per la torre più alta Inimmaginabile Abbiamo tratto la fine del mondo verso il mare Troveremo la fine del mondo verso il cielo Verso il cielo Quindi diciamo che esploriamo tutte le parti E vediamo come Esatto È stato costruito questo gioco Mi piace Lo stiamo proprio capito Scoprendo nei minimi dettagli Comunque lo faremo nel prossimo episodio Questo episodio però Vogliamo iniziare almeno a fare la pietaforma Dove tutto avrà inizio Esatto Quindi ci serve un pilastro Ce lo fai costruire senza scendere Dai Fai da bravo Ci serve in quello Ti prego Non farci scendere C'era l'hai visto per un attimo? Eccolo Eccolo Attenzione Vai Oh yes Perfetto Più pigri di noi non esiste nessuno No assolutamente no Dopo la sfaticata per finire il mondo Cioè Un po' di riposo ci sta pure no? Esatto Adesso devo riuscire anche a fare così Guarda tutto quello che stai facendo Ecco qua Ecco qua Era ok Allora Allora Facciamo che metto tutto Ok Esatto La mia idea La mia idea è comunque Quale In effetti non l'ho ancora detto L'idea è quella di creare una specie di isola separata Un'isola di legno Ok Giustamente Giustamente perché non possiamo farla di terra Separata dalla nostra isola dove però c'è la torre Così mi sembra la distanza adeguata L'isola della torre L'isola Dai un nome più bello lo troveremo Consolini il nome per la torre Il nome per l'isola che contiene la torre Deve essere proprio un nome molto elaborato Ok Ho capito Quindi voglio che proprio vi sbizzarriate E proponiate cose Il più bello lo mettiamo nel video Ti piace? Ok va bene Mi piace Vediamo chi vince Allora abbiamo ancora della legna da qualche parte Perché non vorrei raccattare da lì Che ci dà un sacco di schifezze inutili Vediamo qua Dai non posso aver sviluppato tutto Ok Infatti mi ricordo che ne avessi comunque tanto Dai 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 Allora Perché ho l'acqua? Quando l'ho presa? Non lo so Non mi ricordo Non l'ho presa di proposito Sappi questo Ok Questa è come sarà la piattaforma Praticamente Inizio perlomeno La larghezza sarà questa Ovvero tre pilastri Andremo più o meno fino a qui Poco più Perché comunque non sarà tanto larga O lunga Ma sarà principalmente alta Esatto Quindi secondo me non è importante Neanche fare troppo la base enorme Perché se no poi ci mettiamo una vita a farla alta Capito? Esatto Quindi secondo me va benissimo questa come forma Quindi per il prossimo episodio Vi facciamo trovare Già tutta la piattaforma finita E iniziamo la nostra costruzione gigantissima Super mega alta Comunque ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto È stato super impegnativo Come sempre un'ora di registrazione E qualche ora di farm per farlo Ma speriamo che vi sia divertito Quello è l'importante Che vi sia piaciuto Che vi sia piaciuto Che vi sia divertito Sono amale Non mi stai rovinando l'auto? Eh sì sono amale Mi rovinato l'auto Adesso la faccio Ci fermiamo così Spera che si riusci Che vi sia giusto Ascettaci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao